buongiorno amici buongiorno amiche finalmente un nuovo video un nuovo box android allora il il mio smartphone in questo momento è un samsung con android 14 ed è collegato tramite questo box alla mia automobile come vedete l'automobile vede collegato un iphone in realtà è collegato un android questo perché questi box sfruttano il modulo carplay per connettere sia un iphone che un android via wireless alla vostra automobile chiaramente la vostra automobile deve essere predisposta già di fabbrica alla connessione carplay via cavo grazie a questo box ma in generale a tutti i box attraverso questa funzione cioè il carplay cablato viene poi viene poi visto il vostro smartphone come fosse un un android o un iphone via wireless e allo stesso tempo potete sfruttare le funzionalità che questi box offrono tra cui quella di appunto youtube in movimento che adesso vi faccio vi faccio vedere quindi stiamo vedendo youtube lo possiamo vedere sia in movimento che da fermi golli zaccagni con questo box della carlin kit carlin kit brand che penso voi tutti conosciate produce molti molti box molti adattatori questo è uno dei dei tanti non mi hanno inviato un top di gamma ma direi un basi gamma perché ha solo 2 gigabyte di ram e 32 gigabyte di memoria interna c'è anche da dire che scontato costa 80 euro lui è piccolino ha questo led piacevole qua c'è il vano per inserire un'espansione della memoria non la sim e qua c'è vedete il posto un piccolo led il posto per inserire una penna usb cosa che io ho fatto manca quindi lo slot per la sim e vi dico subito che manca il gps integrato comunque è fatto bene la luce è piacevole non non invasiva sicuramente è un prodotto a alla vista molto molto piacevole vedete già qui ci dice che c'è android 10 il modello del box il processore che sinceramente è abbastanza cheap e è poco è poco altro è sicuramente un box base gamma però comunque con 80 euro fate fate quasi tutto perché vi potete collegare ad android auto via wireless vi potete collegare a android auto via wireless in più avere il play store ascoltare la musica e i video dalla chiavetta o dalla us o dal micro sd e quindi insomma possiamo fare quasi tutto chiaramente lo fa con grande calma queste sono le applicazioni che ho trovato preinstallate vedete se tenete premuto la potete spostare ma non non c'è l'opzione disinstalla vedete c'è questo store alternativo buono perché appunto trovate anche cose che non sono presenti sul play store e non necessita di un login le impostazioni vedete allora c'è questa schermata adesso vi faccio vedere se ci riesco ecco questa è la schermata diciamo proprietaria di carlin kit dove ci sono alcune informazioni non tutte vedete molto aggiornato c'è la possibilità di aggiornare il software vediamo insieme se c'è qualche aggiornamento no abbiamo l'ultima versione c'è da dire comunque che l'aggiornamento presente è molto recente o insomma è di marzo abbastanza recente accettabile chiaramente con un apple pie gli aggiornamenti sono addirittura settimanali qua carlin kit su questo modello l'ultimo aggiornamento l'ha fatto a marzo 24 direi che è che è comunque accettabile da questa schermata che è proprietaria di carlin kit andando qui si va in quella anzi no questa è sempre quella di carlin kit ecco con questa qua andate nella classica schermata stock di tutti questi box dove vedere le varie le varie caratteristiche vedete questo è la ram che vi dicevo android 10 solo 2 gigabyte di ram non è un fulmine non è un fulmine come potete vedere le cose le fa le fa abbastanza bene ma chiaramente le fa le fa con calma vedete ci stiamo muovendo abbastanza agevolmente ora non sto a farvi diciamo tutta la storia perché questi box sono un po tutti simili si tratta solo di avere hardware diversi prestazioni diversi prezzi diversi quello che fa lo vedete lo sapete se mi chiedete tu spenderesti 80 euro per questo box io sinceramente preferirei spenderne il doppio ed averne uno più potente magari con uno snapdragon 4 gigabyte di ram e il gps però ci vuole una cifra minimo doppia rispetto a questa se avete un budget basso volete vedere youtube in movimento o netflix questa qui è l'unica soluzione presente su amazon italia se volete risparmiare qualcosa chiaramente sia carlin kit che altri box li potete valutare su su aliexpress io vi metterò in descrizione il link all'acquisto di amazon italia anche perché così avete 15 giorni per fare la prova già che ci siamo vi ricordo che invece un dongle come questo che attualmente è il migliore sul mercato serve solo a collegare android auto in modalità a wireless anziché via cavo niente youtube in movimento niente espansione della memoria niente play store quindi è una funzione completamente diversa da questi box quindi attenti alla funzione di questo e alla funzione di questi anche perché questi costano la metà di questi il motivo è proprio perché sono più complessi hanno più funzionalità vediamo insieme se è possibile riprodurre un video presente nella chiavetta proviamo proviamo questo si è partito è un video in verticale quindi è corretto che si veda così e ha fatto il suo il suo dovere quindi amici riproduttore video promosso ora per collegarmi ad android auto dovrei cliccare questo per android auto via wireless ma se lo faccio probabilmente mi cade la registrazione però ho già provato e funziona perfettamente android auto wireless cliccando qui perché mi cade la connessione perché questo box la wifi può essere occupata o da android auto via wireless quando funziona android auto via wireless oppure con la wifi gli potete dare il segnale dati attraverso il tethering dello smartphone o attraverso o attraverso altre fonti quindi lui si collega ad internet solo con la wifi non avendo lo slot per una sim proprietaria e quando funziona android auto non può funzionare anche ad esempio youtube in movimento perché la wifi o è occupata dalla ricezione dei dati da una fonte esterna che può essere il tethering che può essere quello che quello che volete quindi mi raccomando sappiatelo che se comprate questo box non avendo una sim non avendo una slot sim dovete dargli internet attraverso il wifi e il wifi quindi o è occupato da android auto oppure è appunto dicevo occupato da quella che può essere una sim presente nella vostra automobile o una saponetta o il tethering dello smartphone vedete come si vede come si vede come si vede bene come si vede fluido in questo momento infatti il box è collegato ad una sim presente nella mia automobile allora amici direi che è tutto salutiamo pasqui che ci ospita nel suo canale e ci vediamo presto per un nuovo video se avete delle domande fatele nel box dei commenti ciao